La madre di Giulia Salemi Proprio da Francesco Monte Il tronista non sapeva che Giulia aveva perso la testa per lui, aveva una vera e propria cotta ma nella casa, assicura Fariba, non potrà mai succedere niente perché la figlia conosce Cecilia Rodriguez e non farebbe mai niente con un ex di un'amica Ma sarà davvero così? In questi giorni i due si sono avvicinati molto ma lei spesso e volentieri ha parlato di un rapporto di amicizia, solo di questo, forse la madre ha ragione? Sempre Fariba nell'intervista ha bocciato anche Elia, un fratello per lei, e gli altri concorrenti della casa ma, a quanto pare, ha sganciato poi la bomba delle bombe La rivelazione su Andrea Iannone.Secondo quanto rivela Fariba Tearani sembra proprio che in passato Andrea Iannone si era interessato alla figlia ancora prima di ripiegare poi su Belen Rodriguez, Iannone fece il filo a mia figlia Sembrava davvero molto interessata a lei, ma non appena Giulia chiese un po' di tempo lui è sparito A quanto pare lei ha insegnato alla figlia di non fare l'amore con il primo che capite e forse proprio per questo rifiuto il centauro sparì nel nulla e poi lo abbiamo ritrovato alle presse con Belen Rodriguez con la quale ha iniziato poi una storia lunga degli anni tra convivenza Vacanze e vita di coppia Giulia farà la stessa rivelazione nella casa o toccherà al pilota rispondere alle parole di Fariba? Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like Grazie 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 Grazie